La coda questa mattina arrivava in via Pasquale Paoli, un lunghissimo serpentone di auto incolonnate per recarsi a fare il tampone in via Napoleona, uno dei tre punti organizzati dalla SS Tilariana sul territorio. Gli altri sono a Cantù e a Menaggio, con modalità drive-thru per cui è necessario recarsi in auto. In questa sede vengono eseguiti per conto della TS in Subria i tamponi richiesti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, tamponi su prenotazione con indicazione previa telefonata del giorno, dell'ora e del luogo dove l'utente dovrà presentarsi. Già nei giorni scorsi era evidente l'incremento degli utenti, questa mattina complice probabilmente per molti il giorno di riposo dal lavoro lo è stato ancora di più, presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità. Nei tre punti tampone e quindi come detto anche in via Napoleona vengono eseguiti anche gli esami per l'attività di testing in ambito scolastico e servizi educativi dell'infanzia, in questo caso l'accesso è diretto e senza prenotazione, dal lunedì a sabato dalle 9 alle 13, ma oltre al rispetto degli orari è necessario presentarsi avendo compilato l'autodichiarazione predisposta da Regione Lombardia scaricabile dal sito di ATS in Subria e il form online sempre di ATS.